L'Irlanda si è affidata a un poeta e sociologo per rappresentarla in un momento di crisi e di risanamento. 70 anni, una lunga storia personale, spesa a servizio dei diritti umani, Michael Higgins è da sabato il nono presidente dell'Irlanda. Una carica essenzialmente simbolica che rivestirà per 7 anni con possibilità di un secondo mandato. Ho avvertito e continuo ad avvertire il dolore degli irlandesi, ha detto nel suo primo discorso da capo dello Stato. Riconosco che abbiamo bisogno di riflettere su quei valori spesso ingiustamente dati per scontati che ci hanno portato a vivere una fase così difficile in termini economici e sociali e per i quali abbiamo pagato e stiamo pagando un prezzo così elevato. Il suo impegno a restituire agli irlandesi la fierezza di essere tali si scontra con una realtà difficile che richiede al paese sacrifici per raggiungere gli obiettivi di bilancio imposti dai creditori internazionali. Finora comunque l'FMI e l'Unione Europea sono soddisfatti di Dublino, come ha confermato l'ultima missione della settimana scorsa in Irlanda.